Come quella volta che s'andiete, ora ve la voglio fino a raccontare, tanto hanno 30 secondi, ve la voglio raccontare. Eri morì, Eri morì, Eri morì, io c'ho va, fennà, fracce, il cazzo, era con la beatrice, ve la ricordate, no? Quella che faceva la beatrice ma non vendeva una cornigia, sentì quel che si dice, era una beccatrice perché gli capa due il pennello che la vernigia, no? Ora ha cambiato un mestiere, ma ora fa la muratrice ma sentì quel che si dice, una porcina perché gli capa due la cazzola che la cazzina, manca!